ah ah bambini ciao io sono guffetta e stamattina mi stavo guardando nello specchio mi sentivo così tanto bella ma poi ho sentito rumori ciao guffetta ah cosa c'è cosa vuoi romeo adesso vieni con me no io non voglio andare con te ho paura e ora io ti rubo vieni con me guffetta ma dove sei buongiorno bambini voi avete visto dove è andata a finire guffetta dovevo andare a fare con lei a colazione e poi andare a scuola ma lei non c'è cosa è successo chi l'ha portata via come è possibile guffetta guffetta ora la andiamo a cercare qua non c'è mettiamo via la sua carrozza la parcheggio qua dietro la cosa ora andiamo a cercarla qua non c'è qua non c'è la non c'è cosa dietro non c'è neanche qui ciao gatto boy ciao romeo non hai visto guffetta eh sì l'ho vista e dov'è dov'è eh 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 bambini voi sapete dov'è vero glielo diciamo dov'è romeo l'ho presa come prigioniera ora cosa devo fare per liberarla devi passare un bellissimo gioco se vinci te la faccio prendere se perdi rimane per sempre con me no romeo non può rimanere per sempre con te ora va bene andiamo facciamo il gioco bambini spero che gatto boy vince questo gioco perché io sono qui mi ha legato e sono lì aiuto gatto boy ora gatto boy siamo arrivati al punto dove tu devi fare il gioco davvero e qual è sto gioco questo è il gioco eh eh ma è una lavagnetta di pj musk eh sì ora tu mi devi disegnare tre disegni te li faccio vedere e tu devi riuscire a disegnarmeli ah così va bene allora ci provo vediamo fammi vedere i disegni guffetta bravo guffetta gatto boy gatto boy guffetta arrivo appena finisco qua con romeo questo è il primo disegno devi ripeterlo devo fare il disegno di pj musk vediamo prendiamo la penina mettiamola sopra ehi ma tu non puoi infrongere le regole così non si fa non puoi andarci su e tu non puoi rubare la mia amica va bene uffa oh e tu non puoi rubare la mia amica ora io inizio inizio con la p ora vediamo se sono stato bravo che bello ma sono bravissimo voilà bambini cosa dite questo disegno è abbastanza sufficiente per passare agli altri e farli portare via la guffetta proviamo di farlo un altro questo è abbastanza sufficiente adesso gatto boy te lo do ancora più più difficile bambini è vero che sono stato bravissimo ora tieni questo è ancora più difficile di quello di prima prova prova gatto boy a farcela e portare via la tua amica ehi bambini ma io sono bravissimo ora farò sto disegno in un minuto forse anche più veloce iniziamo prima facciamo gatto boy la lavagna magnetica bellissima bambini la potete prendere dove volete comprarla basta chiedere a mamma ehi dai che sono quasi pronto le sopracciglia gli occhietti op ecco tic 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 la mia bocca naso sariso le braccia il segno di gatto boy è pronto ora facciamo la guffetta bambini cioc 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 è facile fare la guffetta ehi siamo quasi pronti guffetta vola via che bella dobbiamo fare le sue ali e manca Geko Geko il nostro Geko che è super veloce super bravo ed è sempre molto attento a tutti oggi però è andato a scuola prima quindi non lo sa che guffetta si è persa oh ma che carini ok ho dimenticato di fare gli occhi a Geko così ci siamo guarda guardate bene bambini guarda bene Romeo sono stato bravissimo e penso di poter portare via la mia amica o non ti basta così pensavi che è così facile gatto voi devi fare un altro terzo disegno il più difficile dei tutti più difficili disegni che puoi fare allora allora ora lo facciamo dammi sto terzo disegno oh sono caduto mi sono fatto un po' male io ho due disegni da proporsi questo e questo scegliamo questo è molto più bello proviamo a disegnarlo forza gatto voi oh sono deciso ora puoi togliere oh ma la gufetta non ho disegnato la bocca mi sono scordato ecco hai visto come sono bravo Romeo bravissimo è vero gatto voi ora puoi prendere la tua amichetta è là in casa gialla al secondo piano io scappo bambini ti trovo ti prendo dopo andiamo alla casa gialla gufetta arrivo ciao gufetta vieni oh mi hai liberato si bambini mi hai liberato ha fatto tre bellissimi disegni e Romeo è scappato ma noi lo prenderemo ora bambini mettete mi piace e cliccate sul campanellino così guardate gli altri video divertenti ciao bambini ciao ciao bambini andiamo gufetta a scuola ciao ciao Grazie per la visione!